Allora, sono qui oggi per presentare il mio progetto, che è un bar top che ho realizzato in modo completamente artigianale. In realtà c'è stato un piccolo passaggio con un taglio laser, però sostanzialmente si può realizzare in maniera completamente artigianale con degli utensili normali, sega circolare, pantografo manuale e via dicendo. Spiegherò le varie fasi che mi hanno permesso di fare questo bar top, dalle lavorazioni diciamo meccaniche fino alla configurazione hardware, software e tutto quello che potrebbe servire per costruirne uno uguale. È un progetto che nasce da un'idea mia che avevo diversi anni fa, poi per vari motivi non l'ho più portata avanti e quest'anno mi sono deciso di farlo. Il primo passaggio è stata la progettazione del case. Ancora prima di questo passaggio, prima di definire come realizzare il case, bisogna definire soprattutto che monitor usare, se 16 noni, se 5 quarti, se 4 terzi, se si vuole utilizzare un LCD, se si vuole utilizzare un CRT. La scelta del monitor secondo me è fondamentale per poi progettare tutto il case. Si trovano dei progetti già fatti, io ho preferito costruirlo da zero perché nessuno soddisfava quello che volevo fare io, perché la maggior parte di quelli che ho trovato erano basati sui 16 noni. Io ho voluto utilizzare uno schermo 19 pollici, 5 quarti e quindi ho deciso di fare tutto quanto in modo da non avere problemi durante l'assemblaggio, eccetera. Quindi una volta scelto il monitor, i tasti sono standard, quindi i diametri delle varie furature, i layout si trovano. Basta scaricarli da un qualsiasi sito, si trovano online, ci sono tantissime fonti per trovarli. Io non essendo molto bravo con i software di progettazione, ho usato AutoCAD, che è l'unico che conosco. Ho fatto solo le viste in 2D, che comunque mi hanno permesso di realizzare tutto quanto il Bartop. Ovviamente, avendo delle conoscenze con il 3D, si è molto avvantaggiati perché si ha un'idea molto più chiara di come verrà il Bartop alla fine e certe problematiche che ho avuto io durante la realizzazione si potrebbero sicuramente risolvere con un software di progettazione 3D che è molto più avanzato delle semplici viste che ho fatto io. La parte fondamentale è realizzare il pannello laterale, che è quello un po' più complesso, che ha gli archi e definisce la forma vera e propria del Bartop, perché poi per la tastiera i pannelli laterali, il fondo, sono tutti comunque pannelli quadrati o rettangolari quindi si possono fare tranquillamente con una sega circolare, basta solo un attimo definire le dimensioni. L'importante, come primo step, secondo me, dopo aver definito il monitor, è creare il pannello laterale. Quindi questo per quanto riguarda i disegni, una volta fatti i disegni avevo già in mente come procedere, quindi una volta definito questo sono passato allo step successivo, che è stata l'unica lavorazione che ho fatto fare con un taglio laser ovvero mi sono fatto creare una dima che ricopiava il disegno del pannello laterale del Bartop l'ho fatta tagliare a laser, questa qua in MDF da 8 mm per il semplice motivo che il laser non poteva tagliare spessori superiori se no lo avrei sicuramente realizzato direttamente al laser questa dima l'ho fatta perché in questo modo potevo copiare questa dima con il pantografo manuale con una fresa a candela, quelle con il cuscinetto sotto si riescono a copiare le varie sagome ed è anche, l'ho fatto in previsione di avere magari degli incidenti di percorso che magari potevo rovinare un pannello o varie avendo questa dima potevo realizzarne vari quindi onde evitare di avere problemi, magari ritrovami alla fine con un pannello rovinato o comunque che avesse qualche incidente di percorso mi sono fatto una dima così potevo farne altri successivamente il terzo step appunto è stato quello di ricopiare quella dima su un pannello in truciolare da 16 mm che anche quello era stato già definito nella progettazione gli spessori del Bartop di tutto il case ho usato truciolare da 16 mm quindi una volta realizzato col pantografo manuale anche il pannello laterale finito sono passato agli step successivi che sono stati la creazione dei pannelli frontali di tutto quindi la tastiera, il pannello delle casse il fondo, il pannello posteriore il marchè davanti insomma tutti i vari pannelli che sono stati fissati con delle squadrete e con degli inserti filettati per truciolare ci sono metodi più semplici per fissare i pannelli si possono usare colla, spine e comunque tantissimi metodi questo è quello un po' più laborioso però è quello che mi ha permesso di correggere tutti i vari errori creati durante il montaggio del Bartop perché essendo realizzati comunque a mano ok, parti dal primo pannello e va tutto bene parti dal fondo ed è perfetto vai avanti, ti ritrovi parti magari dalla tastiera ti ritrovi al pannello delle casse che è l'ultimo che assembli che hai magari una differenza di 5-6 mm perché voglio o no non li farai mai perfetti a mano non hai una perfezione tale da dire ok, li faccio sono sicuro che tutto va bene con questo metodo di fissarlo con le squadrette e gli inserti filettati si ha la possibilità di smontarlo più volte per correggere i vari errori cosa che magari con le viti autofilettanti non riesci perché una volta che le togli dal truciolare puoi riavvitare al massimo altre due volte poi il foro si danneggia molto quindi è un metodo un po' più lento però appunto permette di risparmiarsi i vari fastidi dopo quindi una volta fissate tutte le parti sono passato a fare la tastiera una volta definito comunque il case la tastiera appunto tutti i vari fori li ho riportati a mano sul pannello si potrebbe procedere stampando il disegno e bulinando i fori prima io ho fatto così perché non avevo una stampante abbastanza grande a casa e comunque non ho avuto particolari problemi a seguire i disegni ho visto che sono venuti abbastanza giusti rispetto al disegno che avevo fatto lo step successivo è stato quello di tagliare il plesilast di protezione per la tastiera qui semplicemente ho ricalcato il disegno il pannello che avevo fatto per la tastiera in truciolari in modo da non avere errori poi successivamente con i fori perché anche questo qua essendo fatto a mano potrebbero esserci degli errori se si copia la tastiera che si ha già va sicuramente bene i fori sono stati fatti con una comune fresa tazza da 30 mm di diametro si trova in commercio a poco prezzo insomma con il trapano a colonna si riesce a forare perfettamente i plesilast senza particolari accorgimenti basta andare abbastanza piano e tenere lubrificata la parte con dell'acqua vedo che ho visto che non ho avuto particolari problemi di crepe o cose varie lo step successivo dopo aver posizionato i tasti è stato quello di realizzare gli alloggiamenti per i joystick anche questi qua le misure sono state riportate a mano le sedi sono state fatte con il pantografo manuale l'unico accorgimento è sulla profondità delle fresate quindi se dovete farne uno partite con il pantografo già impostato alla profondità giusta perché se vi viene troppo basso il joystick cioè se è troppo alto non si chiude il plastic glass se è troppo basso rischiate di avere problemi successivi con le grafiche perché non riuscite a farle bene distese potrebbero cadere dentro al joystick per quanto guarda le dimensioni si può anche sforare un pelo non ho avuto particolari problemi neanche qui l'importante è che siano centrate ecco l'importante è che siano centrate con i tasti altrimenti alla fine si vede sono leggermente... ce la si può giocare un po' però se vi trovate con un errore di 4-5 mm alla fine vi trovate con le manopole sfarsate tra di loro e si vede perché poi la grafica è stata fatta al pc perfetta quindi vedete che i joystick non cadono perfettamente nei punti della grafica che avevate prefissato quindi l'unico accorgimento è questo con i joystick e ovviamente gli ingombri laterali io ero già partito prevenuto ho cercato di tenerli un po' più indentro perché appunto non sapevo gli ingombri perfetti del joystick perché non li avevo ancora in mano ho cercato di tenerli un po' più indentro il risultato è venuto comunque buono e durante l'assemblaggio non ho avuto particolari problemi di ingombri che si incrocesse con i tasti o che battesse sul fondo quindi anche qui stando un attimo attenti avendo un attimo di riguardo non si hanno particolari problemi dei problemi li ho avuti con il fissaggio del vetro perché il vetro quando andate a tagliarlo date una dimensione non potete giocarvela quando è tagliato è così quindi tutti i vari errori che si trovano alla fine ad esempio il mio problema è stato che il pannello delle casse era fuori di 5 mm aveva uno spazio di 5 mm era più alto da un lato il vetro non si può modificare perché una volta tagliato in casa non è che puoi far molto almeno io quindi avendo le squadrette come ho detto prima asolando un po' i fori sono riuscito a far combacciare tutto perfettamente e alla fine il risultato è stato comunque molto molto buono il vetro davanti è stato fissato posteriormente da due traversi messi direttamente in opera ovvero ho appoggiato il vetro ho fatto sì che combacciasse con la tastiera che combacciasse con il pannello delle casse e dietro ho semplicemente fissato due traversi circa un centimetro di spessore in modo che il vetro non cadesse dietro invece sotto è appoggiato sulla tastiera e il plessiglass lo tiene in posizione perché il plessiglass da 3 mm comunque riesce a tenere in posizione il vetro perfettamente e sopra è bloccato dalle griglie delle due casse è un metodo abbastanza semplice va fatto in opera quello sì perché appunto per recuperare i vari errori perché il risultato sia pulito deve essere fatto in opera per la scelta del vetro io ho scelto un vetro fumé, nero non è molto molto scuro in realtà però permette di dato che ho utilizzato un monitor a cristalli liquidi ha quell'effetto sui neri che sono leggermente bianchi perché vogliono i led dietro che illuminano il pannello lasciano passare un po' la luce sui neri utilizzando un vetro fumé si attenua molto questo effetto non dico che si avvicina alla qualità del CRT sui neri però comunque permette di attenuare molto questo effetto del bianco e secondo me risaltano molto meglio anche i colori con un tipo di vetro così è leggermente antiriflesso rispetto a quello normale quindi ho preferito fare questa scelta anche perché il prezzo era praticamente uguale l'effetto era migliore quindi ho preferito usare questo tipo di vetro qua lo step successivo è stato quello di fissare il monitor anche questo l'ho fatto in opera in modo che combacciasse perfettamente con il vetro davanti è stata fatta una piastra una sorta di piastra sempre in legno sfruttando l'attacco vesa del pannello e lateralmente è stato fissato con quattro squadrette metalliche quelle che ho utilizzato per tutto il bartop e l'inclinazione comunque è stata decisa anche quella in opera seguendo il vetro il centraggio anche lì se avete il vetro appoggiato avete un po' di dimensioni dai disegni riuscite a centrarlo perfettamente anche ad occhio non ci sono particolari problemi ho avuto un piccolo problema con il piedistallo che quando ho comprato il monitor ho visto che era fissato era una parte fissa con tutta la scocca non potevo rimuoverlo ho dovuto tagliarlo però anche qui dopo non è niente in vista quindi potete giocarvela potete eventualmente smontare la cornice e appoggiarlo direttamente al vetro senza la cornice originale io l'ho tenuta perché comunque era nera quindi mi andava bene dato che ho fatto un bordo nero sul vetro non mi ha dato problemi anche qui tenere sulla cornice ho preferito così anche perché se non ricordo male per smontare la cornice dovevo smontare l'intero monitor e le viti per tenere il pannello posteriore erano avvitate con quello anteriore quindi rimuovere la cornice per me voleva dire rimuovere anche il pannello posteriore del monitor quindi è stato abbastanza inutile toglierla uno step successivo è stato quello di creare la scanalatura per fare entrare il bordo in gomma dei pannelli laterali anche questa qua è stata fatta con una fresa montata sul pantografo manuale questo tipo di fresa non è facilissimo trovarla in commercio si trova hanno prezzi abbastanza elevati perché andando su marchi più o meno conosciuti si può spendere anche una cinquantina di euro per una fresa così io l'ho comprata all'estero era una fresa super economica ho comunque speso 20 euro che mi è costata quasi come il monitor la fresa però questo tipo di bordo che ho usato io e anche quelli che si trovano in commercio bisogna fare una scanalatura di 2 mm farla su un pannello dritto non è un problema si può fare con la sega circolare però per seguire il profilo dei pannelli laterali siete costretti a usare una fresa così quindi questa è stata una scelta obbligata perché non ho visto nessun altri metodi per fissare il bordo perché incollarlo non è la soluzione migliore secondo me quindi sfruttando l'incastro ho dovuto usare questa fresa è stato comunque un lavoro semplice perché quando è definito l'altezza giusta in modo che venga al centro si va via abbastanza tranquilli e abbastanza diretti anche qui non ci sono stati particolari inconvenienti dopo di questo ho definito la parte grafica del bar top allora le grafiche sono state stampate su vinile lucido adesivo per farle queste grafiche qua non le ho fatte io me le ha fatte un mio amico io gli ho passato i disegni del bar top e lui ci ha costruito le grafiche sopra quindi gli ho dato tutte le dimensioni dove cadevano i tasti dove cadevano le casse eccetera eccetera lui me le ha costruite è stato un lavoro che a me è venuto gratis in giro so che chiedono abbastanza per fare un lavoro così non so quanto però sicuramente attorno a un centinaio di euro circa per fare un lavoro del genere io sono riuscito a trovare i loghi in vettoriale quindi è stato un lavoro per lui a detta sua molto semplice avendogli definito le dimensioni avendogli dato i loghi è stato molto semplice io con una ventina di euro me la son cavata perché quello è stato il prezzo che ho pagato per farle stampare le ho stampate in doppia copia sempre in previsione di eventuali problemi perché se si danneggiano non sono molto esperto nel wrapping o nel mettere adesivi sono comunque abbastanza grandi in realtà poi è stato molto semplice non ho avuto neanche qua particolari problemi però per sicurezza le ho fatte doppie dove evitare di fermarmi e di doverle rifare sono state tagliate a mano non le ho fatte tagliare col plotter un consiglio che do per le grafiche una volta definito il disegno che le avete fatte conviene maggiorare il bordo il bordo di tutte le grafiche di 5-6 mm per parte in questo modo specialmente sul pannello laterale che è quello un po' più delicato quello che si tocca un po' di più quando si arriva alla fine del pannello che si è incollato tutta la grafica il bordo che avanza si riesce a svoltare dentro sulla parte diciamo frontale dove andrebbe il bordo e il bordo te lo tieni in posizione con questo trucco onde evitare giustamente se le tagliate giuste dovete incollarle giuste perfette se le incollate storte di un millimetro alla fine vi rimane cioè vi rimane qualche buco così riuscite a compensare i vari errori e in più il bordo ve lo tieni in posizione non avete il problema che toccandole si alzano i bordi perché magari con la luce e con il caldo toccandole potrebbero stassi i bordi avendoli sotto il bordo in gomma essendo maggiorate e risvoltando la grafica sotto il bordo in gomma questo problema potete risolverlo così e un'altra cosa che ho fatto con le grafiche una volta che le ho incollate è stato verniciarle sopra i pannelli laterali il resto era coperto dal plastic glass la tastiera e la parte frontale quelle laterali le ho verniciate perché ho visto che anche passando con la mano dopo un po' si deteriorano abbastanza velocemente non so se sia stata una scarsa qualità delle stampanti o il toner comunque io ho preferito verniciarle con 10 euro di bombolette mi sono risolto i problemi e sono tranquillo dopodiché una volta che avevo fatto tutti i pezzi avevo piccolato le grafiche avevo messo il bordo sono passato all'assemblaggio finale una volta che si hanno i pezzi pronti si va via abbastanza tranquilli tutte le dimensioni le avevo definite era già al grezzo era pronto da montare quando ho messo le grafiche le ho montate come vedete la tastiera i pannelli laterali quello là è finale è tutto l'insieme ho fissato il monitor ho rimesso sul vetro e alla fine il risultato è questo che è il bar top che avete visto sul capannone qua fuori sul tendone qua a fianco alla sala fatto questo sono passato all'interno sono passato alla parte elettronica io ho usato questo tipo di scheda madre qua che è una scheda madre con CPU Celeron già in 2009 ero partito con un'idea diversa volevo usare Linux con RetroPie però Raspberry io ho la prima versione ce l'avevo già in casa ho provato a utilizzarla ma la potenza non è sufficiente a far girare dei giochi un po' più recenti tipo i vari metaslag già lì inizia ad avere dei fastidi dei lag e parlando con un ragazzo l'altra sera mi ha detto che anche il 3 inizia ad avere dei problemi nonostante la potenza sia maggiore ci hanno dei problemi anche con con il 3 quindi dato che avevo in casa questa scheda madre che non utilizzavo è molto compatta consuma poco quindi ho deciso di utilizzare questa scheda madre qua abbinata a 4 giga di RAM un hard disk classico meccanico non serve SSD insomma non ho avuto necessità di utilizzare altri componenti per quanto riguarda i tasti io li avevo comprati che erano assieme veniva fornita una schedina USB che faceva da controller quindi con i driver di Windows standard te lo riconosce come joystick USB basta configurare i tasti all'interno di vari emulatori Windows te la riconosce direttamente senza problemi e per la parte software ho preferito usare Maximus Arcade che è un front end ne esistono tantissimi a me hanno consigliato questo in un forum mi hanno consigliato questo perché poi effettivamente ho provato anche gli altri questo è il più semplice costa 25 dollari questo software però si trovano tantissime guide è compatibile con tantissimi emulatori dal MAME all'emulatore per PlayStation 1 il SIGA Genesis supporta una trentina di emulatori vari quindi anche qui come dato che la prima volta che facevo un lavoro del genere non avevo mai utilizzato nessun front end questa è stata la scelta più semplice è vero si pagano 25 euro però trovate guide su qualsiasi forum chiunque abbia usato un front end anche diverso è comunque prima passato su Maximus perché è veramente la base come front end come sistema operativo ho usato Windows 7 per il semplice motivo che è più facile nascondere le schermate di avvio di Windows quando accendete il computer che viene fuori la classica schermata di avvio di Windows poi entra nel desktop con Windows 7 si trovano tantissime guide per nascondere questi passaggi di Windows e arrivare direttamente al front end si mette in avvio automatico praticamente non ci sono problemi sotto questo punto di vista si trovano tantissime guide con Windows 10 è già Windows 8 Windows 10 è già più difficile perché per quel poco che mi sono informato io non ho trovato nessuno che è riuscito a togliere completamente le schermate di Windows rimaneva sempre qualcosa ho visto che Windows 7 gli emulatori li supportava le guide c'erano quindi semplicemente ho detto preferisco Windows 7 per questo motivo qua e e basta alla fine come emulatori ho usato il MAME in versione 0.198 che non è l'ultimissima è compatibile con Maximus Arcade nonostante questo frontend l'ultima release mi pare sia di un paio d'anni fa supporta anche l'ultimo MAME tranquillamente e sostanzialmente basta lui ti fa solo da link diciamo nei giochi poi le varie configurazioni dei giochi vanno fatte all'interno di ogni emulatore si avvia il MAME in maniera classica si configurano i tasti poi lui cioè lui ti fa solo da collegamento da interfaccia grafica quando tu lanci un gioco lui si occupa di lanciarti l'emulatore con il gioco quindi sostanzialmente sono state queste le fasi che mi hanno permesso di realizzare il bar top che avete visto qua fuori se avete domande in particolare sì dove hai recuperato le informazioni per arrivare al prodotto finito diciamo dove hai recuperato la conoscenza per quali pezzi scegliere e il come montare tutto immagino tu avessi l'idea del prodotto finito ma io non saprei fisicamente dove prendere per esempio il pannello di vetro o dove acquistare i tasti e il joystick ok beh allora le conoscenze sulle lavorazioni sono stato fortunato perché io ho lavorato per 7 anni nel settore del legno del mobile quindi le conoscenze le avevo già da prima per reperire i vetri ho trovato una vetreria in zona che mi ha fatto il piacere di farmi il vetro magari certe aziende ai privati non perdono tempo a fare il vetro nei vari brico si fa fatica a trovare pannelli di vetro se si trovano non si trovano delle dimensioni adatte bisogna tagliarli tagliare il vetro in casa non è così semplice sotto questo punto di vista mi sono rivolto a questa vetreria che mi ha fatto piacere di farmi questo questo favore insomma i pannelli di legno si trovano al brico quelli si trucciolare da 16 mm si trova al brico semplicemente un po' ovunque per quanto riguarda il kit di tasti l'ho comprato in internet online si trovano anche qui abbastanza facilmente se si fanno piccole ricerche si trovano in ogni caso adesso che stanno tornando un po' di moda i giochi vecchi i retro gaming ci sono tantissimi forum tantissimi anche i gruppi su facebook per dire che sono disposti ad aiutarti a darti di link di suggerimenti diciamo che una decina d'anni fa perché dato che è un progetto volevo fare ancora quando andavo a scuola una decina d'anni fa le informazioni erano molto più rade diciamo cioè c'erano si vedevano c'erano più restauri non erano c'erano pochi che si costruivano questi bartop o questi cabinati adesso comunque è molto molto più semplice si trovano dei progetti già fatti si possono acquistare dei pannelli già tagliati basta adattarsi al monitor cioè a volte magari è semplice comprare il kit già fatto i pannelli di legno già fatti bisogna vedere poi se ti sta dentro il monitor più che altro che è la parte un po' più difficile da far combaciare però in realtà a volte si trovano dei progetti dove ti dicono già che tipo di monitor usare con una cinquantina sessantina di euro si trovano appunto i pannelli grezzi però già tagliati quindi puoi procedere abbastanza tranquillo ti risparmi più di metà del lavoro sicuramente comprando i pannelli già fatti ok grazie 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 grazie